E' sempre più cruenta la lotta al botteghino in tempi di Halloween. Il film d'orrore O.I.A. si ispira all'esplorazione del mondo dei morti col vecchio sistema della seduta spiritica e una tavoletta O.I.A. La scorsa settimana, in Stati Uniti e Canada, il film ha incassato 20 milioni di euro, superando Fury di Brad Pitt. Con un cast di attori sconosciuti e un budget molto limitato, la pellicola narra di un gruppo di ragazze che cercano di entrare in contatto con lo spirito di un loro amico misteriosamente scomparso. La critica non esulta. Quando Tony Stark cerca di avviare un programma di pace, le cose degenerano e i più grandi eroi della Terra, tra cui Iron Man, Captain America, Thor, l'incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno messi alla prova mentre il destino del pianeta è di nuovo a rischio. Siamo nel plot di Avengers Age of Ultron. Scritto e diretto da Joss Whedon e prodotto da Kevin Feige, Avengers Age of Ultron della Marvel, si basa sulla popolare serie a fumetti, pubblicata la prima volta nel 1963. Preparatevi per un giro da brividi denso d'azione quando i Vendicatori torneranno con Avengers in distribuzione dal maggio 2015 in Italia. No, I'm free. There are no strings on me. No.